Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. E bisogna dare onore al merito al generale Camporini. Sono andato a cercare una sua intervista di pochi giorni fa dove lui aveva detto vedrete che Putin farà un discorso pacato e ci aveva visto benissimo. In tutta questa faccenda, io Zelensky lo lascerei da parte perché è un attore consumato e quindi lui recita benissimo la parte dell'eroe democratico, però poi c'è anche un'altra questione, essendo il paese invaso si dà per scontato che è tutto giusto quello che dicono nel paese invaso e che non è così. Ma l'altra cosa che vorrei dire è che purtroppo non abbiamo mai dato per scontato che tutto quello che dicono gli ucraini è giusto. Questo proprio ce lo posso assicurare. Abbiamo fatto un lavoro anche difficile. Lo dico io come mia osservazione, no scusami, scusa, lo dico io come mia osservazione complessiva, guardando io c'ho qua tutti i giornali degli ultimi 15 giorni e quindi questo è. No ma voglio dire per esempio in questa cosa, poi voglio dire una cosa su Biden, in tutta questa vicenda non viene mai usato un principio antico che si chiama il rasoio di Ockham, che dice che di fronte a una serie di parametri e di fattori bisogna scegliere sempre più semplice e invece si va a cercare sempre più complicato. Allora come si può pensare, come dice la Nato e come dice Biden, che Putin dopo l'Ucraina vorrebbe assalire il resto dell'Europa, ma se non riesce a colpire neanche una piccola nazione, come si può pensare che debba, voglia invadere la Polonia, voglia invadere qua. Quindi questo è un non senso che è stato detto per elevare il livello dello scontro. Contemporaneamente, scusa, contemporaneamente io dubito che Draghi, che si è messo sempre in ginocchio davanti agli americani, che si stanno rivelando guerra fondai come lo stanno dicendo tutti quanti, e io sto totalmente con Caracciolo, possa andare a farle cambiare parere. Mi colpisce che in questi giorni, come è stato citato, De Benedetti, ma anche Macron, ci stiamo rendendo conto che le sanzioni, per esempio, colpiranno prima noi di quanto potranno far male alla Russia. Allora quindi... Allora, prendiamoci un momento, ho detto parecchie cose, professore. Questo discorso è debole. Allora, aspetti un atto, si fermi un istante. Belega.